salve a tutti benvenuti in una puntata dell'angolo del lupo parliamo sempre di wrestling come al solito ormai di abitudine e puntata pre summer slam ovvero voti aspettativa di summer slam mi incarto un po la limpa chiedo scusa prima di iniziare non rispondere a due commenti su un video precedente uno di cremo credo chiamiamo al busoschi che mi faceva complimenti per il video e lo ringrazio mi diceva di tagliare un po di più risponde dicendo io non mi prestabilisco prima la durata di un video le cose parlo finché ho delle cose da dire parlo finché diciamo l'argomento non si esaurisce poi a volte è capitato mezz'ora a volte è capitato meno a volte è capitato di più insomma non ho una durata prestabilita io parlo finché si esaurisce diciamo l'argomento di cui devo parlare è un'altra domanda di alexandre anipco al quale rispondere al quale risponderò dopo diciamo durante la puntata la domanda riguarda owens e jerry con la nuova alleanza quanto può durare risponderò ecco durante la puntata parla arrivando quando si arriva a parlare del loro match ora ribadisco come sempre io vado vado a memoria poi può essere che mi sbaglio essere qualcosa me la dimentico anche perché i match questa volta sono abbastanza ecco sono parecchi è il primo pay per view diciamo scusate e prima per view dell'era brand extension è il primo pay per view nel quale secondo me già si capiscono un po di cose la prima cosa che si capisce è che non il roster non è abbastanza per fornito tutto intero per farne due roster separati questa la prima seconda cosa è che si capisce diciamo l'ordine l'importanza che hanno i due show per la ww non sono sicuramente messi alla pari tant'è che a summer slam su dieci match che ci sono praticamente uno inter brand sei sono dirò e solo tre sono di smackdown insomma credo che la proporzione sia questa insomma se c'è sei contro tre significa significa che ro ha il doppio dei match di smackdown il doppio e ro ha solo un'ora in più e cioè ro ha la settimana sono tre ore contro smackdown che ne ha due metti vabbè poi fatevi conto voi pubblicità tolta pubblicità quanto tempo rimane ok però insomma non la non è grande di non c'è questa grande differenza non è che smackdown è due ore e ro e 4 è due contro tre e la proporzione appunto è 3 a 2 ro e smackdown mentre la proporzione dei match smackdown è 6 contro 3 c'è il doppio questo fa capire un po' anche loro l'importanza dei ganni due show per la ww ci fa capire quanto smackdown sia di fatto uno show di serie b show secondario rispetto a la ww rispetto a ro e già è ovvio non ho scoperto l'acqua calda con con questa affermazione però diciamo questa differenza di trattamento di match l'inserimento di me c'è la card una card diciamo unica come quella di summer slam fa già cioè è una prova tangibile concreta di questo almeno secondo me comunque andando i match allora voglio andarci un certo ordine intanto inizio con quelli di smackdown che sono pochi e ce la sbrighiamo in fretta iniziamo con i match di smackdown e ovviamente vado a memoria qualcuno me lo dimentico domando scusa andiamo ai match di smackdown match per titolo intercontinentale mitz contro polo cruz onestamente questo match non so cosa aspettarmi anche perché insomma la situazione è quella che i due dottatori sono quello che sono non so dirvi esattamente chi vincerà scusate io scusa ma estate il caldo si va a sentire dicevo non so dire chi vincerà dei due certo non mi aspetto un grandissimo match perché diciamo polo cruz si è bravo ma ha bisogno dell'avversario giusto ed emiz non so quanto ormai touring possa essere là per serio giusto visto che comunque emiz ormai è molto più gimmick molto più personaggio che lottatore come personaggio funzionare benissimo sul ring è quello che per carità non scarsissimo ma i suoi limiti detto questo passiamo l'altro match il secondo match di smackdown sto partendo prima quelli di smackdown poi ovviamente non so se saranno l'ordine tra quello insomma l'altro match di smackdown john cena contro j styles per carità dovrebbe essere un gran bel match io mi aspetto un gran bel match dimenticavo voto aspettativa quello precedente sei dimenticavo scusate per questo match il mio voto aspettativa è alto perché mi immagino che cercheranno di fare di questo match un gran bel match un match davvero bello e non deludente come precedente mi immagino questo di conseguenza mio voto l'aspettativa questo match è 7 7 per prudenza è perché onestamente spero addirittura in qualcosa di più perché hanno la capacità di due di fare qualcosa di più con questo match voglio introdurre un piccolo argomento che poi tratterò meglio nei in un prossimo video che voglio fare a parte accendo l'argomento di quelli che per gli smart sono gli intoccabili ci sono i lottatori che siccome sono loro tutto quello che fanno è bello e deve piacere a tutti e a tutti gli smart no non è così cioè non è così non deve essere così ognuno è libero di ragionare con la prima testa è libero ad avere i propri gusti come giusto che sia per esempio a me questo ora adesso l'accenno adesso poi ovviamente si parlerò di altri lottatori eccetera ma farò un video a parte in cui riassumerò bene tutto in cui spiegherò bene tutto questo ma comunque a me non piace l'attuale j styles io l'ho e j styles non l'ho visto tanto in ingono l'ho visto in tnei le j styles ho apprezzato io e ne j styles sempre cazzuto e con due palle così viene ti guarda gli occhi ti mena ti fa il culo tanto punto questo è le j styles ho apprezzato io le j styles il wwe e il classico il wwe un po viacchello a tratti anche un po coioncello che fa le figure di merda insomma non mi piace vedere j styles così lo rivorrei di no io face che sia non è quello non è l'allineamento il mio problema il mio problema è che vorrei rivederlo cazzuto coi contro coioni tutto qua tutto qua il voto aspettativo con quel match per me è 7 ma solo di prudenza perchè mi aspetto anche di più poi match per il titolo da wwe ambrose contro ziggler in questo preview ci sono due casi in cui la costruzione del match rivaluta l'hype per il match stesso due chiari casi uno dei due chiari casi è questo l'altro caso è in certi sensi opposto a questo perchè dico rivauta perchè all'annuncio io come molti altri ho storto un po' il naso davanti eventualità che questi due si giochino il titolo ho storto il naso a pensare a un ziggler sfidante a ambrose e la prima cosa è stata vabbè match onestamente di dubbio interesse poi però devo dire la verità ho visto puntate anche di smackdown ho visto come l'hanno costruito e la costruzione il modo cazzuto in cui si sono confrontati i due hanno aggiunto molto più interesse mi hanno dato molto più hype hanno aggiunto molto più interesse i due i due comunque sono in grado di fare un buon match perchè sono bravi se ziggler non si mette a oversellare a cazzo di cane come fa di solito i due possono dal minita a un buon match veramente un buon match sarà addirittura ottimo per questo il voto aspettativo che do è un 6,5 speriamo bene di non rimanere delusi scusate e ora possiamo ai match di raw iniziamo con vado a memoria scimus contro sesaro che dire non hanno motivo di affrontare non hanno motivo di averci l'uno con l'altro non hanno motivo di affrontarsi e chiunque vinca da questo match non ci guadagna nulla questo match è proprio di Summers e poi non gli hanno definitivo perchè è il primo di una serie una serie al meglio dei sette quindi voto aspettativa chi se ne frega poi non so direi ah beh Titus Wilder e Young credo sia per il show nel caso non lo fosse nessuno me lo ricordo voto aspettativa 4 cioè non gli frega niente a nessuno e non dubito che faranno un buon match c'è poco da dire poi andiamo a Reigns Rusev per il titolo degli Stati Uniti e insomma non mi aspetto non mi aspetto Reigns ha i limiti che c'è Rusev non è neanche un fenomeno non è scarso ma non è un fenomeno interessante vedere se decideranno di dare la cintura a Reigns notare insomma che questo insomma per me è anche un po' un disperato tentativo di farti fare Reigns cioè buttarlo sul patriottico buttarlo contro uno che viene tifato per forza perché è anti USA gli mette Reigns a a rappresentare gli Stati Uniti diciamo cioè a metterlo contro l'anti USA per cercare di farlo tifare la cosa diciamo che riesce solo in parte lo tifano un po' di lo tifano un po' di più insomma non non smuove i popoli come speravano il mio voto aspettativo onestamente un 5 non mi aspetto nulla di che ecco probabilmente sarà al centro una card magari possibilmente non gli daranno neanche grandissimo minutaggio o forse gli daranno non lo so ma insomma non mi aspetto nulla di che il mio voto aspettativo è un 5 vedremo poi passiamo match di coppia Enzo e Big Cass contro Owens e Jericho e qua rispondo alla domanda di Alexander Alipco che mi chiedeva se questa alleanza fra Owens e Jericho durerà di più della Y2A la mia risposta secondo me no cioè mi sembra abbastanza chiaro che questa alleanza è puramente finalizzata a questa faida e a questo match contro Enzo e Big Cass anzi onestamente conoscendo il personaggio di Owens non mi sorprenderebbe vedere un Owens che per un qualche motivo X si stanca si rompe le scatole durante il match piglia e se ne va e lascia Jericho da solo non mi sorprenderebbe la cosa onestamente ma comunque non credo che durerà molto insomma mi sembra molto finalizzata questa faida non vedo una lunga vita anche se sarebbe bello vederli come attacking fisso perché ecco i due mi sembra che abbiano comunque come attacking una buona chimica mi sembra che abbiano una buona chimica quindi fossero decisessero di usarli come attacking fisso onestamente credo che potrebbe anche funzionare bene in un altro spettativo un 6 non vado oltre perché non mi fido molto dell'abilità sul ring di Enzo e Big S è perché non mi fido dei tactismo fondamentalmente è questo anche Enzo e Big S ne tratterò in quel famoso video con quattro aspettativa 6 andiamo poi andiamo per memoria vado sempre a memoria poi magari qualcuno lo dimentico e me ne scuso ah match per titolo femminile e Charlotte con Sasha Banks onestamente non mi sembra che stiamo facendo questa grande costruzione del match sembra che l'abbiano messo un po' in secondo piano un po' in ombra a livello di costruzione però devo dire il match potrebbe venire più che buono visto comunque il match hanno fatto vedere a Raw nel quale ha vinto il titolo lo Sasha Banks credo che il match possa venire fuori è un match più che buono ma vediamo un po' speriamo insomma il mio voto aspettativa comunque un sei e mezzo ci sta la voto aspettativa spero che confermi magari migliorino anche queste mie aspettative mi chiedo scusa purtroppo ho mangiato abbastanza abbondante stasera comunque non so non vi interessa chiedo scusa eh match per titolo di coppia New Day contro Gallo Sanderson anche lì discorso di prima non mi fido dei match tag team del WWE spesso li trovo piuttosto scontati noiosi insomma o meno meno scontati nel loro svolgimento insomma che è piuttosto standard ecco per quanto riguarda il pronostico mi sembra piuttosto aperto possono eh possono mantenere New Day come possono vincere anche Gallo Sanderson molti sono convinti che in qualche mondo mantenga New Day con il ritorno di Big E che aiuta gli altri a mantenere i titoli io non ne sono così convinto anzi è possibile che vincano i titoli Gallo Sanderson salvo poi fare il rematch con eh Big E che ritorna al RAW successivo al RAW del giorno dopo per per fare per il rimatch ecco minuto aspettativo onestamente proprio perché c'è New Day di mezzo poi il 6 vabbè dei è Gallo Sanderson comunque vabbè anche lì un altro discorso sempre tratterò in quell'altro video allora poi cos'altro eh vabbè il match interbrand Lesnar Horton ecco devo essere sincero io per questo match non ho grandissimo hype non ne ho perché mi sembra scontato che minca Lesnar c'è Lesnar che perde contro Horton onestamente ci crederò solo quando lo vedrò e non so quante i due si possono combinare bene prevede un match piuttosto lento insomma perché i due non sono proprio il massimo del se prevede un solito match con Lesnar che prende e sballotta un po' qua e là con vari suplex l'apersario insomma cosa del genere eh così insomma ecco l'aspettativa è anche la 6 non riesco a dargli di più vediamo come va insomma vedremo come andrà ma i match non so vado molto a memoria mi pare che mi rimanga da trattare soltanto il match per il match per il titolo universal titolo universale non vi abbia lasciando perdere il nome del titolo e fa cagare proprio mi sembra una cosa da bambini una cosa hai il vostro titolo del mondo e noi abbiamo il titolo universale noi il più grande perché noi siamo più grandi è è una roba che non si può vedere comunque a parte questo allora Finn Balor contro Seth Rollins devo dire qua è il caso contrario a quello di eh Ambrose Ziegler ovvero un match che sulla carta appena annunciato un match era un match che mi dava molto hype molto aspettative poi però la costruzione il confronto fra i due mi è sembrato un po' un po' smorto un po' un po' povero un po' smorto mi aspettavo una costruzione migliore fra i due questo mi ha abbassato un po' la hype l'aspettativa i due comunque sono bravi possono dar vita a un gran bel match motivo per cui comunque non scendo sotto al 6 e mezzo come voto aspettativa però la costruzione mi ha mi ha un po' spento gli entusiasmi vedremo come andrà il voto aspettativa comunque è un 6 e mezzo vedremo poi penso ci sia altro non ricordo altro non mi vengo se mi sono indicato qualche altro match io me ne scuso sempre perché io vado molto a memoria vedremo un po' vedremo un po' il tutto insomma voto al pay per view voto aspettativa il pay per view intanto è un 6 ma è un pay per view che sulla carta mi sembra solido ma non spettacolare vedremo insomma quello che viene fuori comunque potrebbe essere un pay per view abbastanza solido ecco abbastanza solido detto questo vi do appuntamento per la prossima puntata dell'angolo del lupo quello del post show di di summer slam dopo il post show vedremo un altro video che farò ad hoc sui i miti smart gli intoccabili smart quello che definisco gli intoccabili smart che secondo me intoccabili non dovrebbero essere e detto questo appunto vi do appuntamento prossima puntata alla prossima